Lunedì 29 maggio 2017. È il 149esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda San Massimino. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimino. Accadde oggi. Il 29 maggio del 2012, forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia Romagna e vengono avvertite in tutto il nord Italia. La più forte di magnitudo 5.8 ha il suo epicentro nei pressi di Medolla, in provincia di Modena. Solo nove giorni prima il terremoto del 20 maggio aveva ucciso sette persone e provocato ingenti danni. Il bilancio totale di quest'ondata sismica sarà di 27 vittime. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al cantante inglese Noel Gallagher, nato a Manchester il 29 maggio 1967. La citazione del giorno. Odio la televisione. La odio come le noccioline. Ma non riesco a smettere di mangiare noccioline. Orson Welles. Dice il saggio. Il vaso. Vale per ciò che può contenere. Proverbio cinese. La parola preziosa. La parola di oggi è palingenesi. È un termine nobile usato soprattutto in filosofia e medicina e indica la rinascita, la rigenerazione e può quindi essere utilizzata come loro sinonimo.